ma questo è un errore guarda guarda il pezzetto qua tutto l'interno è uscita aspettiamo che ci vengono con una grada aspettiamo per favore ragazzi che su? ok scusa stagge questo è un troppo stagge spesso hai guardato guarda è che il periodo è un po' scusa Viva Nello che fa l'ho